Ben ritrovati da Pasqualino Lettura per questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV, la questione che riguarda come sempre i migranti, anche perché nelle ultime ore ci sono ancora tanti barconi che stanno arrivando, sono già arrivati in Sicilia e in Calabria, infatti sul Corriere della Sera, per iniziare con i giornali in TV, sul Corriere della Sera leggiamo Soccorsi in mare, 1300 migranti, tensioni a Cutro, quindi come vediamo c'è ancora un flusso di migranti non indifferente. Poi La Repubblica titola anche Migranti, l'altra Italia, scrive il quotidiano La Repubblica. Poi sulla stampa governo in tilt sui migranti, cambiamola Bossi Finni, scrive il quotidiano La Stampa. Sul quotidiano Libero si decide di aprire con un'altra questione, per un milione Egonus scorda l'Italia razzista, amnesia selettiva. Poi ancora sul Libero spunto un video del Barcone che scaggiona il governo su Cutro, scrive l'agenzia Unione Europea Frontex verificò che non ci fossero criticità, scrive il quotidiano Libero. Poi il giornale La Cricca a 5 Stelle, moralizzatori, moralizzati, grillo verso il processo per favori politici alla Mobi di Onorato, in cambio di 240 mila Euro per il blog. Il comico intercettato se ne occuperà Toninelli. Questo è il giornale. Poi su Il Fatto Quotidiano, la loro unica guerra è quella contro i PM, scrive Il Fatto Quotidiano con le foto di Silvio Berlusconi Matteo Renzi. La verità, Brusaferro non può stare a capo della Sanità italiana. Davanti ai PM il Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, appunto Brusaferro, certifica la sua inutilità. Andiamo a Il Tempo, sbarchi continui, scrive la prima pagina di Il Tempo, su Il Messaggero Bollette, nuovo bonus famiglia. Da luglio, scrive appunto Il Messaggero, tariffe più basse per chi riduce i consumi. Ammortizzatori, antirincari per le imprese, intesa Netanyahu Meloni, più gas all'Italia. Balneari, il Consiglio di Stato, boccia la proroga. E poi ancora sul Quotidiano Messaggero, abbiamo letto queste notizie, c'è anche, stanno dicendo ancora sul Quotidiano Messaggero, c'è anche una foto di Giuseppe Murigno, l'allenatore della Roma che è stato squalificato. Dopo che appunto è stato sospeso ogni provvedimento, consentendo quindi a Murigno di andare in panchina nel match contro la Juventus, ora il giudice sportivo lo ferma per due turni. Poi andiamo su domani, ancora su domani, Xi negozi alla pace tra Iran e Sauditi, il nuovo ordine attrazione cinese, appunto scrive domani, poi il sole 24 ore, le banche statunitensi spaventano le borse. Il mattino, migranti, un'altra odissea. Poi il riformista, gli scafisti sono poveretti, i trafficanti veri sono altri e se la ridono del decreto. Poi il manifesto, una foto emblematica, un titolo emblematico, rotta continua sul continuo sbarco di migranti che sta avvenendo, è avvenuto e sta avvenendo in queste ore. Poi sul gazzettino, in campo la Marina Militare, salvi 1300 persone. Poi il dubbio, la prima stecca di Giorgia che su Cutro ha seguito Salvini e non il Quirinale. Poi si torna a salvare, scrive avvenire, avvenire scrive si torna a salvare. Poi il secolo XIX, Balneari, storia, dei giudici legare si dovranno fare. Andiamo anche sull'identità. Barcone Europa, un'altra nave, l'Italia sola, chi va alla deriva è l'Unione Europea. Il resto del Carlino sentenza sui Balneari, no alla proroga. La notizia parla il sondaggista Baldassari, con Cutro è finita la luna di miele tra Meloni e gli italiani. Poi Metro, ora un orso, ecco qui c'è la foto di un orso che rischia di essere abbattuto. Poi l'opinione delle libertà, riforma fisco, finalmente si parte. Queste erano appunto le prime pagine dei quotidiani nazionali con cui abbiamo aperto, abbiamo iniziato questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV. Ora andiamo alle prime pagine di Gazzetta del Sud, poi leggeremo anche su Gazzetta del Sud online, Gazzetta del Sud web, scorreremo le notizie dell'edizione Catanzaro, Crotone, La Mezzaterme e Vibo. Su Gazzetta del Sud in prima pagina, no LEP, no autonomia differenziata. Quindi il Presidente Occhiuto risponde in Consiglio regionale agli attacchi della minoranza e garantisce per il futuro. Poi annuncia l'utilizzo di altri 120 medici cubani, sono bravissimi, ci aiuto. Poi in mezzo, in prima pagina su Gazzetta c'è una foto con il sommario, soccorsi 1300 migranti diretti in Calabria, max operazione per evitare nuove tragedie. Poi ancora i richiami in prima su Gazzetta del Sud in alto a sinistra, l'intercettazione dei piromagli, li riapre il processo, poi Soverato, torrente pericoloso, indagati a Lecci e il sindaco Vacca. Poi a San Costantino Calabro, escalace un criminale nel Vibonese, a fuoco in mezzo della Satell di Paravati impegnato nei lavori della linea telefonica. Poi Catanzaro, comune, si definisce il patto per la città, un sondaggio preoccupa Fiorita. La Mezzia Terme, la Guil Pensionati chiede più attenzione alle politiche per il Sud. Poi Crotone, Piazzale del Teatro, un altro bando per 600 mila euro. Poi Vibo Valencia, Cimiterio, la Giunta rivede le tariffe e morire è un lusso. Poi ancora di spalla su Gazzetta del Sud dicevamo delle notizie che riguardano i migranti, ma anche del terremoto in basso di spalla. Terremoto in Aspromonte, scuole e uffici evacuati, ma nessun danno. Poi Di Piede, Balneari, doccia fredda sul governo. Poi Netanyahu che ha incontrato Meloni, amplieremo le esportazioni di gas in Italia. Poi ancora il sabotaggio del Nord Stream, Mosca, Stati Uniti responsabili. Questo era sulla prima di Gazzetta del Sud. Andiamo alle Gazzetta del Sud online, web, scorriamo le notizie, i titoli. Migranti in 500 attraccati a Crotone, il peschereccio navigava in mare, forza 6. A Catanzaro, patto per la città, l'ora dei dettagli. Poi altri titoli, Catanzaro, caso Conad, il Tar ha disposto nuovi accertamenti sulla struttura. Poi ancora pericole e sondazioni, indagate Ernesto Alecci e il sindaco di Soveranto. Un incidente, scontro tra due auto a Catanzaro, 5 ragazzi feriti. Poi il racket non abbassa il tiro, ancora fuoco a San Costantino Calabro. Cimiteri, morire a Vibbo è un lusso, assenza di loculi. A Vibbo c'è assenza di loculi, poi morire a Russo. Ci sono anche diritti di segreteria, oltre agli assenzi di loculi. Poi alla Mezia, Assemblea regionale, Wilp, alla Mezia sui pensioni, salari, contratti di lavoro, si gioca il futuro del Sud. Poi strage di Cutro, Frontex, non c'era una situazione di pericolo, Mattarella emana di flussi. Poi naufragio di Cutro, le vittime salgono a 73, è stato recuperato il colpo di un bimbo di 5 anni. Naufragio di Cutro il 17 marzo, incidente probatorio per lo scafista minorenne, Crotone, vertenza concese, approvato il tavolo tecnico proposto da Wiltec, Wilfm Cacizza, Vibbo Valencia, circolo privato, somministra alcolici, senza autorizzazione, scatta la multa. Poi Catanzaro, patto per la città, l'ora dei dettagli, occhiuto, annuncia l'arrivo di altri 120 medici cubani in Calabria. Poi Bonomi a Catanzaro per presentare Agenda Calabria, questa terra può dare tanto. Queste erano le notizie che abbiamo letto, i titoli di Gazzetta del Sud online. Poi andiamo all'edizione cartacea, sia del quotidiano edizione nazionale, l'altra voce dell'Italia, che poi passeremo all'edizione Calabria. Sul quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, ricostruire il funzionariato di Stato, la sfida epocale dell'immigrazione e il delitto della politica di affondare l'autonomia dell'amministrazione per le emergenze. Poi ancora, in balia delle onde governi e tanti disperati, la strategia europea aiuta solo i trafficanti. Decine di barche in difficoltà nello Ionio. Intervenga la Marina. Poi la notte dei profughi, all'assalto della Calabria e Lampedusa non riesce a ospitare più nessuno. Berlusconi ora si sente a disagio sul barcone del centro-destra, forse tale si defila sulla questione migrazione. Ritirato il decreto, la Georgia sogna un futuro in Europa. Poi ancora, i flussi li decidano gli Stati, non gli scafisti. Poi pensioni roventi, Francia in piazza contro la riforma. E' chiusa la banca della Siglo Con Valley, mercati nel panico. Poi 3 kg di arance per un caffè, il mercato, spreme i produttori. Investimenti al Sud, a rischio per i ritardi. Poi l'accanimento di Putin contro i civili, i missili, una vendetta per le sconfitte. Questo era appunto sul dorso nazionale dell'altra voce dell'Italia. Poi andiamo al quotidiano del Sud, edizione Calabria, barconi stracarichi diretti in Calabria, migranti, emergenza a largo a due settimane dalla strage di steccato di Cutro. Oltre mille persone sulle imbarcazioni alla deriva, mobilità di mezzi aereo e motovedette, ma il trasbordo è complesso. Intanto è stato recuperato il corpo di un bambino di 5 anni e la vittima, numero 73, del naufragio di Cutro. Poi l'inchiesta di Reggio Calabria sui Piromalli, la cosca più forte del Covid durante la pandemia funzionava regolarmente. Poi il caso Bombardieri, CSM, i motivi del ricorso, il Consiglio di Stato non ha letto i curricula. Poi in arrivo altri 120 medici cubani, i primi 40 a Vibbo e Crotone, poi Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Consiglio regionale, il sì e l'autonomia differenziata in fiamma il dibattito, occhiuto, il testo cambiato, grazie a noi. La strage è disteccato di Cutro e il giorno dopo il Consiglio di Mesa a Cutro, restano i dubbi sulla dinamica del naufragio. Ancora il Sindaco di Crotone, martedì, sarà trasferita l'ultima bara. Poi il disegno di legge Calderoli, Paolini dell'Acopo, così si favorisce la sanità al sud. Poi Catanzaro, il punto Conad, per ora resta aperto la decisione del Tar. Reggio Calabria, generi di prima necessità per tutte le famiglie fragili. Porto di Vibbo, revoca concessione, soggetti legati alla criminalità. Poi Crotone, antica Croton, il Ministero rassicura, azzerati i ritardi. L'incontro, gratteri al villaggio Coldiretti, serve un freno alle importazioni. Poi Confindustria, il piano di investimenti sotto la voce Agenda Calabria. Poi l'iniziativa, i borghi calabresi alla fiera del consumo critico di Milano. Poi Gioia Tauro, il record al porto con il sorpasso di due giganti. Poi anche all'interno delle pagine del quotidiano del sud troviamo ancora la visita di Meloni, l'incontro tra Meloni e Netanyahu, il primo ministro israeliano. Vogliamo esportare più gas in Italia. Poi ancora Mosca accusa Washington su Nostrim, intanto c'è questa strage ad Hamburgo, 8 morti ad Hamburgo, Scholz, un brutale atto di violenza, carneficino in una chiesa dei testimoni di Genova con 8 morti. Ancora il Consiglio dei Ministri a Cutro, accuse per la passerella dei ministri e il mancato inchino davanti alle bare, fa discutere la riunione straordinaria del governo. Poi ancora il dramma di due ragazzi che perdono 22 familiari nella tragica attraversata, la toccante testimoniante della psicologa Intersosso. Dalla Palamilione partirà l'ultima bara martedì, lo dice il sindaco di Crotone. Tutto avverrà col consenso delle famiglie, primi trasferimenti al cimitero di Cutro, voli a carico dello Stato per Kabul. Celebrate le sequie nel cimitero islamico di Bologna e poi c'è una manifestazione sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Poi ha un'altra storia, chi ha perso tutto ha bisogno di sapere di non essere solo, parla Nigro che è l'operatrice della Croce Rossa italiana. Poi Save the Children Italia, per ognuno di loro fuggire è una necessità, dice l'organizzazione impegnata a Cutro. Poi noi artisti abbiamo un compito indicare la via per restare umani, lo dice il fotografo Pastore e il progetto Santi Migranti. E come detto, come abbiamo letto anche in prima pagina, Occhiuto annuncia che altri medici cubani sono in arrivo in Calabria, i primi 40 andranno a Vibbo e Crotone, i restanti a Cosenza, Catanzaro e Vibbo Valencia. Quindi Catanzaro si intende che probabilmente dovrebbero arrivare anche all'ospedale di La Mezzia Terme. Poi operazioni Ibris, colpito la cosca Piromali, il clan Piromali, la cosca più forte del Covid, l'inchiesta della DDA di Reggio sull'assetto del clan Piromali. Nonostante la stasi dovuta alla pandemia, la consorteria era perfettamente funzionante. Emersi i rapporti con le altre famiglie. E ancora sul quotidiano del Sud, il rilancio passa da Agenda Calabria secondo Confindustria. Poi Giri Falco, il cambiamento al femminile, evento organizzato dall'amministrazione comunale al centro provinciale di istruzione per adulti, un momento di confronto. Poi Marcellinara, Gariano selezionato da Anci per il corso di formazione per i giovani amministratori. Felice e orgoglioso di essere nuovamente selezionato. Andiamo alla Mezzia Terme, si parla di sanità. L'ospedale di La Mezzia pronto all'emodinamica. A breve sarà anche inaugurata la sala di cardiologia interventistica. Il coordinamento 19 marzo a Occhiuto. Si proceda ad attivare il servizio di emodinamica, di cui si parla da tanto tempo, all'ospedale di La Mezzia Terme. Poi Pianopoli, donna e prevenzione della salute. Iniziativa dell'amministrazione comunale e dell'associazione senza nodi, politiche giovanili. Il Comune apre la mail canale diretto tra ragazzi e comuni per le politiche giovanili. La celebrazione è giunta la reliquia di Santa Rita da Cascia. Il Vescovo nella sua omelia il nostro percorso nasce e torna nel cuore di Dio. Accolta nella parrocchia di Santa Maria Maggiore. Resterà fino al 19 marzo la reliquia di Santa Rita da Cascia. Decollatura. Belle le nonne di un secolo fa. L'ambientazione a un angolo di paese oggi troppo dimenticato. A Storino nel suo libro racconta la sua infanzia fra natura e dialetto nelle stagioni. Interrogazione del PD di Gizzeria. La stele di Rosato è stata spostata. Il motivo, chiedono i consiglieri comunali del PD di Gizzeria, nel ventennale della scomparsa del dottor Vittorio Rosato, già sindaco di Gizzeria, per il PD. Ricorda che è stata posta una stele infissa in modo verticale nel centro della piazza omonima, intitolata al dottor Illustre, scrive il PD ex sindaco. Ma ora questa stele è stata spostata. Durante i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della stessa piazza, effettuati qualche mese fa, la stessa stele è stata collocata su una facciata laterale e il PD interroga l'amministrazione comunale per capire il perché. A San Mango d'Aquino c'è stato un sopralluogo, una incompiuta da molti anni, realizzata però abbandonata, mai utilizzata. La residenza sanitaria per anziani diventerà una cosiddetta casa della comunità. La RSA è incompiuta con nuovi fondi. Ora dovrebbe entrare in funzione l'annuncio social del vice sindaco Trunzo. Poi a Curinga, al comune, serve una figura tecnica, dovrà pianificare la partecipazione ai bandi del PNRR, il piano nazionale di ripresa e residenza. A Crotone, Franca Ferraro è il nuovo prefetto di Crotone. Poi il sindaco ha rappresentato la città, esponenti della maggioranza replica Nammeo che contestava la lettera alla Meloni. Il consigliere ha saputo interpretare il dolore di un'intera comunità, riferita appunto al sindaco di Crotone. Il consiglio comunale di Cutro ringrazia il consiglio dei ministri, ordine del giorno aggiuntivo per sottolineare la forte iniziativa del governo. Intanto il trasferimento delle prime cinque salme è stato individuato un terreno. E ancora sul quotidiano del sud a Polistena è stato trovato nei giorni scorsi un ordigno. Era un ordigno dell'Andrangheta, minaccia contro una comunità onesta, la condanna del sindaco dopo il ritrovamento appunto di questo ordigno. Poi Vibo Valencia, soggetti legati alla criminalità, la motivazione di revoca della concessione marittima dall'alba al tramonto. Poi Vibo Marina, sottopasso dopo anni di attesa, affidato l'appalto per finire l'opera. Poi Pizzo, parcheggi, le nuove disposizioni, specifiche ordinanze del comune per mettere ordine nel settore, esenzione del pagamento della sosta oraria alla parrera per i residenti. Tropea, al via Voci e Colori, Poesia Donna, ospite d'onore della tredicesima edizione, Anna Barbaro, campionessa di triathlon. Iniziativa organizzata dall'Associazione Onde Mediterranea è preseduta da De Luca, poi Filadelfia, le strade cittadine diventate un colabrodo. L'amministrazione ha appaltato i lavori per la loro sistemazione, denunciata anche la carenza di segnaletica. Leggiamo sempre dal territorio di Vibo e provincia. sempre sul quotidiano del Sud. Gheorlier, l'urban rep della generazione Z, aperte le prevendite per il concerto di agosto a Cirella. Poi Cucina, lo chef Michele Rizzo della Gorà di Rende, ambasciatore del gusto. Poi le muse alla giornata Poeti del Sud, l'appello del Presidente Livoti ai reggini a invitare i loro componimenti. L'evento il 21 a Corigliano Rossano, scrive il quotidiano del Sud. Sempre con il quotidiano del Sud ci avviamo ora alla conclusione con le pagine dello sport. In Serie A, intanto c'è stato un risultato a sorpresa, in anticipo di una partita di Serie A. Spezia-Inter, Spezia che ha battuto l'Inter per 2-1. Clamoroso, Spezia ha battuto l'Inter. Liguri in vantaggio con Maldini, poi il pari di Lukaku e il lampo finale di Inzolà. Roma due turni per Murigno, lo dicevamo, il tecnico salterà il Sassuolo e il derby. Andiamo alla Serie B, è stata rinviata la partita Perugia-Regina. Si lavora per il futuro del settore giovanile, Geri ha incontrato 50 società. Intanto la partita Perugia-Regina è stata rinviata per il terremoto che ha colpito l'Umbria, niente agibilità per lo stadio Curi. Questa notizia, dunque non si giocherà Perugia-Regina. Poi Cosenza rientra il tifo della Curva Sud, quindi rientra questa protesta dei tifosi del Cosenza, degli ultra del Cosenza ormai in contestazione da alcuni mesi. Intanto Cosenza si prepara per questa sfida contro la SPAL. Una parte dei gruppi organizzati degli ultra del Cosenza sarà allo stadio. La Nord continua invece nella protesta. Tanto Viale recupera la voca, mentre Marra si è allenato regolarmente in gruppo, allarme infortuni rientrato. Poi lunedì sera il derby all'uscita di Crotone tra Crotone e Catanzaro. Catanzaro a Crotone senza tifosi. Arriva l'ufficialità anche del GOS, chiuso il settore ospiti dello stadio uscita. La società del Crotone evolverà l'intero incasso alle famiglie vittime del naufragio dei migranti. È staccato di Cutro. Poi rientra il caso del Sambiase. Sambiase pace fatta tra squadra e club, parliamo di prima categoria. In panchina è tornato anche Paolo Gallo. Ricordiamo che nei giorni scorsi c'era stata una sorta di ammutinamento dei calciatori del Sambiase che chiedevano il ritorno di Paolo Gallo e l'allenatore in panchina, altrimenti non si sarebbero allenati, non avrebbero giocato, lamentando anche il mancato pagamento dei rimborsi spesa. Poi il giorno dopo la società ha risposto dicendo ritiriamo la squadra del campionato. Ora invece è tutto rientrato, i giocatori sono rientrati, anche lo stesso tecnico Gallo, per cui il Sambiase sarà regolarmente in campo e continuerà dunque il campionato. Siamo al volley serie A2 femminile, soverato, al via la pool promozione, la squadra di Chiappini in campo senza l'ansia del risultato. Poi automobilismo, Leonardo Cuppa rilancia la sfida, esordio nel campionato ATCC, il pilota vibonese appunto scalpita. Andiamo al basket sport unificato, una rivoluzione, ha soverato grande successo per le squadre speciali e si è conclusa una delle tappe promosse da Special Olympics Italia. Poi Coppa del mondo di sci, la Schifrin entra nella storia, in Svezia raggiunge Stenmark, la Brignone sale sul podio. Questo era appunto sulle pagine dello sport del Quartinale del Sud e come al solito con lo sport siamo anche arrivati alla conclusione del nostro ennesimo appuntamento con i giornali in TV, come sempre ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 del Digitale Terrestre, ma anche sulla nostra pagina Facebook e anche sulla nostra piattaforma YouTube, STV, naturalmente non solo i giornali in TV ma anche, vi ricordo, l'appuntamento con A Tutto Calcio, a proposito di sport, a proposito di calcio, l'appuntamento con A Tutto Calcio ogni lunedì alle 20.45 per parlare insieme a voi, approfondire i vari temi con interviste, ospiti, studi, servizi e immagini per ciò che riguarda la Serie B, la Serie C in particolare, appunto la Serie B e la Serie C per quanto riguarda le squadre calabresi, una di queste questa settimana non giocherà, abbiamo letto appunto che la partita Perugia-Regina è stata rinviata per il terremoto che ha colpito l'Umbria, poi la Serie C, poi lunedì sera ci sarà il derby Crotone-Catanzaro, quindi lo seguiremo, seguiremo l'evolversi di questo appuntamento con A Tutto Calcio lunedì sera alle 20.45, poi spazio anche alla Serie D e all'eccellenza A Tutto Calcio, ripeto, oltre che lunedì alle 20.45, vi ricordo anche le repliche del martedì alle 14.30, del mercoledì alle 22.30, da Pascolino Retture è tutto per i giornali in TV di oggi, naturalmente grazie per averci seguito finché, grazie per l'attenzione, noi vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti i giornali in TV di oggi, grazie a tutti i giornali in TV di oggi.